L'iconica statale 106, tratto di asfalto che attraversa l'intera penisola da Sibari a Reggio Calabria, è da decenni una delle strade più pericolose d'Italia, testimoniando purtroppo la tragica cifra di almeno 750 incidenti mortali registrati tra il 1996 e oggi, secondo l'associazione Basta Vittime. La sua ristrutturazione integrale richiederebbe un investimento massiccio di almeno 7 miliardi di euro. Recentemente un segnale di cambiamento è emerso con la firma del decreto interministeriale da parte dei ministri dell'infrastruttura e dei trasporti Matteo Salvini e delle economie e delle finanze Giancarlo Giorgetti. Questo decreto individua i tratti dell'asse Sibari-Cadanzaro che saranno finanziati con 3 miliardi stanziati nella legge di bilancio 2023. Questa iniziativa parte di un piano di ammodernamento più ampio permetterebbe al commissario straordinario e ad Anas di avviare gare per 7 cantieri concentrati inizialmente tra Sibari e Corigliano Rossano. L'appalto integrato per la progettazione esecutiva ai lavori dovrebbe essere messo all'asta prima dell'estate 2024, quindi fra qualche mese. Nel frattempo è già in corso l'appalto per il primo stralcio della Catanzaro-Crotone. Nonostante questo passo avanti, alcune incertezze persistono specialmente per i tratti meridionali tra Catanzaro e Reggio Calabria, dove mancano ancora i progetti. L'obiettivo è ambizioso, trasformare l'intera strada in una doppia carreggiata con quattro corsie. Una nota positiva proviene dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Chiudo, che ha annunciato un passo importante per il tratto squillace a merito portosalvo. Anas ha accettato di realizzare la progettazione, questa sì che è una buona notizia, aggiungiamo noi. Questo ovviamente potrebbe rappresentare un significativo passo avanti nella ricerca dei fondi necessari per un progetto di questa portata. Mentre il cantiere tra Sibari e Roseto Capospulico procede a pieno ritmo con più del 50% delle lavorazioni già completato, la strada è ancora lunga e piena di sfide. La statale 106 Ionica è considerata una priorità nazionale, suscitando un cauto ottimismo, ma rimangono ovviamente incertezze su alcuni tratti cruciali. L'auspicio è che questo piano di ammodernamento possa finalmente portare una 106 più sicura ed efficiente, migliorando la vita dei cittadini che la percorrono quotidianamente.